Wurtphoenix, azienda del gruppo Wurt, è un partner IT con una consolidata esperienza in ambito ERP, CRM, IT System & Service Management e Cyber Security. Wurtphoenix ha inoltre deciso di combinare la propria esperienza nell'industria della moda con quella di K3Fashion. K3Fashion è una soluzione concept to customer incorporata in Microsoft Dynamics 365 Finance & Supply Chain, con la quale è possibile gestire i processi di business in ambito fashion, dal design dei prodotti alla distribuzione attraverso gli store. Oltre alle funzionalità standard di Dynamics 365, K3Fashion consente di gestire tutte le fasi di creazione di un articolo o di una collezione, grazie a specifiche funzionalità, quali la pianificazione a lungo termine, la pianificazione prestagionale, l'esecuzione prestagionale, la pianificazione stagionale e l'esecuzione durante la stagionalità. Per maggiori informazioni consulta il nostro sito web e i nostri canali social LinkedIn e YouTube. Se desideri essere ricontattato clicca sul pulsante contattaci della nostra home page.